Duas White Label ti invitavo a un tremendo concerto Amigo Pa' Sempre Quei dos grandi non di sempre Leslie Rossi e Tony Sherm Cia Sabra 29 di Juni Na Avila Beach Hotel Octagon Cominzando 8 di nocci in punto Porta ta' abrì for di 7 ore Carci na valor di 75 florin Na mensis camminata 24 ore 2000 In Fenn Malt Pabbo Early Bird na na valor di 55 florin Passa na cantor di Fenn Malt Duas White Label ti invitavo A un tremendo concerto Amigo Pa' Sempre Amigo Pa' Sempre